Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Inauno ha segnalato personale su strada per il riprissino urgente del fondo stradale tra Barberino del Mugello e Roncobilaccio in direzione Bologna. Inaundici segnalati problemi all'area di servizio di Peretola in direzione Pisa per un guasto all'impianto. Sulla Fipili prestare attenzione per materiali dispersi tra Empoli ed Empoli Ovest in direzione Mare. Sulla statale 1 Aurelia chiusa una corsia per lavori tra Castiglioncello e Quercianella in direzione Genova. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero lavori tra Piano Sinatico e Dogana Nuova in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze.